Alle mie spalle Punta Calamita, beh sarà questo un po' il territorio che esplorerà oggi Fabio Gallo, da terra, ma noi restiamo ancora un po' qua con Mario Menno. Forse è proprio questa l'isola del tesoro, altro che Monte Cristo, perché ha una storia geologica assolutamente straordinaria. Si dice che qui siano raccolte tutte le spiagge del mondo, e così forse la gran parte dei minerali che noi conosciamo li troviamo proprio qui. Sicuramente sì, nonostante le sue piccole dimensioni, perché si parla di poco più di 200 grammi tre quadrati, racchiude una miriade di rocce e una miriade di minerali preziosi. Considerato da tanti scienziati di questo campo l'eldorado dei minerali. C'è tantissimi trattati che partono dal Settecento e arrivano fino ad oggi su minerali, pietre, rocce, sulla sua formazione. Ci sono oltre 160 minerali all'Elba. Non a caso sono nati gli itinerari geologici, che portano veramente tutti i turisti alla scoperta di questi percorsi fantastici. Potremmo dividere l'isola in tre aree, questa è una delle tre. Questa è la fascia orientale, quella della mineralizzazione pura a ferro. Però in realtà l'Elba è stata prima scoperta per il rame e solo dopo per il ferro. Oggi le vediamo molto verde, lussureggiante, eccetera, eccetera, ma se noi fossimo capitati qui 150 anni fa avremmo visto puntili di carico delle navi, tutto disboscato, tutte le miniere a nudo, perché questa che abbiamo alle spalle è un'antica barriera corallina, questo bianco, mineralizzata a ferro. All'interno di questa antica barriera corallina ci sono un sacco di minerali preziosi. Le più leggendari, le più ricercate sono le famose tormaline testa di moro dell'Elba, bellissime, e le acqua marina, che non altro che beriglio puro, la tipica acqua marina tanto amata dalle donne, che ha un colore quasi come quello dei tuoi occhi, quel verde celeste, vengono proprio da San Piero in campo. Parliamo di pietre preziose, sul serio, eh? Assolutamente sì, quindi abbiamo tormaline, abbiamo tantissimi tipi di gioetite, abbiamo tanti tipi di pirosseno, malachite, azzurrite, tantissime pietre ornamentali preziose che poi lavorate, vengono messe sul mercato e sono veramente, veramente, veramente belle. Poi ho detto che lui per mestiere è portato a cercare i segreti e i tesori dell'isola, sì, perché lui fa un mestiere molto particolare, vuoi raccontarcelo? Oltre al geologo ho deciso a un certo punto di rendere anche la mia professione, anche applicarla a ricerca di quella materia che secondo me oggi è la base di tutto, cioè l'acqua. La ricchezza, il bene più prezioso di ogni isola, l'acqua, l'ultimo dei tesori da cercare. Assolutamente sì, per l'elba l'acqua è veramente, veramente importante perché in realtà oggi non ha prezzo. Questo fai tu di mestiere, il cercatore d'acqua? Sì, assolutamente sì. Io parto da una base che è una base scientifica, naturalmente a volte mi avvalgo anche di qualche raddomante perché naturalmente anche loro negli anni hanno raccolto tante informazioni. Come la trovi, come la senti? Soprattutto vado alla ricerca di faglie, di formazioni geologiche particolari, ci sono alcune rocce che contengono l'acqua e altre che non la contengono. La cosa più bella è quando attraversa magari 100-150 metri di polvere, veramente polvere, poi a un certo punto comincia a finire la polvere e arriva l'acqua. E' quello il momento più bello del mio lavoro. Guardate quanto è bello. Ecco, ci mancava solo il mio lavoro. E' solo questa, è impazzita la bussola. Però forse ci sono. Ci sono degli ex macchinari. Salve, buonasera. Mi aiuti? Lei? Che ti è successo? E mi sono perso. Ma la cosa strana è che è impazzita la bussola. Ma no, 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 no. No, siamo nella miniera di calamita. Tutti quelli che si fidano alla bussola vanno fuori tiro, insomma. La bussola impazzisce a causa della trazione magnetica della zona. Il nome stesso calamita, magnete. Ma all'epoca, quando per mare si andava soltanto contemplando la bussola, come si faceva qua di fronte? Ma sulle carte nautiche vi erano le variazioni riguardo al magnetismo che produceva questa zona. E quindi tenevano conto di queste variazioni e la ruta seguiva tranquilla. Ma lei dov'è che devo andare? Io alla miniera, poi alla galleria devo arrivare. Ma lei tutte queste cose come le sa? Ma io le so perché ci ho lavorato 30 anni in queste miniere. Questi sono impianti che provvedevano alla miscelazione del minerale. Poi là sotto c'era il pontile di caricazione. Le navi si mettevano sotto, caricavano il minerale. E il nostro minerale di ferro arrivava a Taranto, a Piombino, a Bagnoli. Perché questa era la miniera più importante d'Italia. Quanti anni hai lavorato in miniera? Io ho già lavorato 27 anni. Prevalentemente però, dico il vero, ho lavorato nella miniera di Ginevro. Dov'è? Dov'è? È a 6 chilometri da qui. Vede dove c'è quella pineta? Sì, in cima. Lì c'è la strada, scende e c'è la miniera di Ginevro. Ma sono chilometri? 6. 6, grazie. Ma la mussola se la dimentichi. Ciao, Fabio. Alessandra. Ciao, ma dove sono finito? Nella miniera sotterranea del Ginevro. Vieni, ti porto a vederla. Wow! Il casco. Il casco. La torcia. Pure. Vai avanti tu. Certo. Andiamo? Andiamo. Sotterranea del Stringer. Queste erano le miniere più importanti dell'isola d'Elba. Qui sotto hanno estratto magnetite. Nel sotterraneo cominciano negli anni 50 e per i primi 20 anni non fanno che scavare le gallerie che vedremo. Adesso noi raggiungeremo con 220 scale il punto intermedio. La strada scende fino a 54 metri sotto il livello del mare, ma noi adesso giriamo e ci inoltriamo nella galleria di 24 metri sotto il mare. Un attimo, aspettami che vai velocissima, eccoci. Vedo la luce in fondo al tunnel. Sei nella coltivazione nord. Quest'enorme voragine è nata in dieci anni di estrazione. Immagina questo punto pieno di magnetite. Cioè qui era tutto pieno? Esatto. In dieci anni di estrazione hanno svuotato completamente una grossa fetta della miniera sotterranea. E poi, dato che scavavano dal basso, ma anche verso l'alto, hanno assottigliato sempre di più il soffitto della miniera che poi, verso gli ultimi anni del lavoro, è crollato. Cioè, qua si resta veramente a bocca aperta. È immensa. Quanto sarà profondo qui sotto? Arriviamo fino a 54 metri sotto il livello del mare e la stiamo guardando proprio dalla metà della galleria, 24 metri sotto. Qual è l'importanza delle miniere oggi all'Elba? La miniera oggi è importante perché ci racconta una storia. La storia degli elbani prima del turismo, dei nostri avi, dei nostri nonni. È un salto nel passato. Senti Alessandra, io da qui non me ne andrei mai, però devo tornare indietro perché voglio farmi finalmente un bel giro in bicicletta. Beh, la strada la sai, è la stessa dell'andata. Da solo? Se vuoi. Ah sì, certo. Grazie. Ciao Fabio, buon viaggio. Ciao. Era qua. Qua in fondo a destra, seguo le rotaglie. Facile, no? Ciao. Grazie a tutti. Buon viaggio a tutti. But she doesn't know